In questo caso se abbiamo il nostro dissipatore attaccato con la bocca di lupo sui ponti dell'imbrago sarà molto più difficile riuscire a tirarsi all'insù. Questo alla lunga può portare anche a degli arresti cardiaci. Qualche mese fa ho pubblicato qua su YouTube un video in cui parliamo degli errori più frequenti quando si fa una ferrata. Un video che ho fatto un sacco di visualizzazioni e anche un sacco di commenti. Ma tra tutti questi commenti ho visto che purtroppo si dicono ancora un sacco di cazzate sulle vie ferrate e soprattutto si commettono ancora tantissimi errori. Oggi vediamo dal punto di vista tecnico perché non dovreste commettere questi errori che mi avete scritto. Iniziamo dal primo aspetto ovvero quale imbrago si usa. Per fare una ferrata possiamo usare due tipi di imbraghi. Ho un imbrago classico da arrampicata che lo riconosciamo perché è formato da due ponti, uno superiore e uno inferiore a cui poi viene attaccato l'anello di servizio, quindi diciamo abbiamo tre passanti. Secondo caso invece è quello in cui utilizziamo un imbrago vero e proprio da ferrata. Quindi abbiamo solamente l'anello di servizio che è attaccato direttamente alle cuciture dell'imbrago. In questo caso più semplice da utilizzare, soprattutto da collegare il dissipatore, ed è quello più venduto nei vari kit ferrata, quelli già fatti dai produttori. Il commento sbagliato però che è nato per la maggiore è stato quello che bisogna attaccare il dissipatore ai ponti dell'imbrago e non all'anello di servizio. Vediamo di chiarire una volta per tutte perché non va attaccato ai ponti dell'imbrago. Innanzitutto numero uno perché ce lo dice il produttore. Vi ricordo che il produttore progetta, costruisce e ci mette la faccia quando certifica gli imbraghi. Quindi se il produttore vi dice va attaccato all'anello di servizio, lo attaccate all'anello di servizio, punto e basta. Nessun altro che sia il CAI, che sia chiunque altro che non ha prodotto quello stesso imbrago non può avere voce in capitolo. L'unico che può dirci come utilizzarlo è chi l'ha prodotto. Quindi questo dovrebbe bastarvi per dire ok lo attacco all'anello di servizio. Però dato che non vogliamo capire il perché ci dico di attaccare all'anello di servizio, analizziamo i vari casi. Il primo caso è quello in cui attacchiamo appunto il nostro dissipatore ai ponti dell'imbrago e non abbiamo la fortuna di avere il cavo vicino al sentiero. In questo caso cosa succede? Che l'elogio e tutto il dissipatore andrà a distendersi e quindi la bocca di lupo fatto sui ponti dell'imbrago andrà a chiudersi. In questo modo vi assicuro che se siete dei maschietti, lì sotto farà veramente male. Proprio perché l'imbrago andrà a stringere proprio dove ci sono le parti intime e se andiamo avanti per tanto tempo il mare durerà veramente per tanto. Ecco che se noi andiamo ad attaccare il nostro dissipatore all'anello di servizio anche se abbiamo il cavo veramente lontano dal sentiero e dunque le lonce dovranno andare a distendersi e il bocca di lupo andrà a chiudersi attorno all'anello di servizio non avremo problemi di dolori nelle parti intime. Proprio perché essendo il bocca di lupo attorno all'anello di servizio questo non andrà a stringerci l'imbrago e non ci farà male. Il secondo motivo per il quale non dovreste attaccarlo ai ponti dell'imbrago ve lo faccio vedere simulando qua in palestra quella che può essere la situazione più brutta in via ferrato ovvero quando si cade magari da un attraverso quindi si cade nel vuoto. Il secondo motivo appunto è che quando si cade nel vuoto e si rimane appesi con il dissipatore attaccato ai ponti dell'imbrago questo come abbiamo detto andrà a chiudere i ponti e con il fatto che restiamo appesi la parte bassa dell'imbrago tenderà a schiacciarci. Schiacciarci vuol dire che andrà completamente a chiudere le vene che abbiamo sulle gambe e questo alla lunga inizierà a portare a formicoli sulle gambe a portare a dei problemi successivi che possono essere veramente gravi. Saprò già cosa state pensando? Che quando si va ad arrampicare a fare alpinismo l'ottolo si fa passare per i ponti dell'imbrago e vi spiego il perché l'otto lo si fa passare per i ponti dell'imbrago. Il nodo otto ripassato, nodo delle guide, chiamatelo un po' come volete è un nodo non a strozzo ovvero nel momento in cui si cade e si appesi con il nostro otto in questo caso quello che andrà a stringersi è l'otto che noi abbiamo creato. Dunque la parte di corda che abbiamo passato tra i ponti non andrà a stringere l'imbrago e comunque questo evita tutti i problemi alle gambe che vi ho citato prima. Proprio per evitare tutti questi problemi sicuramente è meglio andare ad attaccare il nostro pifferrata all'anello di servizio perché in caso di caduta questo non andrà a strizzare i due ponti dell'imbrago evitando tutti i problemi. Il terzo motivo che è anche il più brutto e per fortuna anche quello che capita meno è in caso di caduta quando succede un ribaltamento dunque quando noi finiamo con la testa all'ingiù. In questo caso se abbiamo il nostro dissipatore attaccato con la bocca di lupo sui ponti dell'imbrago sarà molto più difficile riuscire a tirarsi all'insù con la testa e questo alla lunga può portare anche a degli arresti cardiaci. Sia per noi che magari ci dobbiamo tirare su sia per chi viene a soccorrerci è molto più difficile appunto perché l'imbrago andrà a strozzarsi. Quello che si fa dunque è appunto attaccarlo all'anello di servizio proprio perché in caso di caduta all'indietro se riusciamo possiamo già noi tirarci su magari in qualche modo altrimenti chi viene a soccorrerci sarà molto più semplice che riesca appunto a ritirarci su dritti. Altra cosa che mi avete scritto in tanti è che non si fanno le ferrate da soli. Perché no? Cioè sicuramente non è un'attività da fare la prima volta da soli quello sicuramente ma quando si ha un po' di esperienza quando si ha un po' di pratica perché non farle da soli? Anzi secondo me è molte volte anche più divertente. Soprattutto poi oggi che abbiamo magari dispositivi GPS che ci permettono di essere localizzati da casa come per esempio questo spot Gen 4. Io lo utilizzo come sapete da un sacco di tempo mi permette appunto di essere geolocalizzato da casa poter mandare dei messaggi preimpostati a casa per dire che sto bene, sono arrivato, sono a metà ferrata e via dicendo posso mandare in caso estremo un messaggio al soccorso proprio se dovesse succedermi qualcosa e nel caso io non possa comunque da casa sanno dove sono non costo troppo io poi ci ho fatto la recensore completa che vi lascio linkata qua sotto soprattutto oggi secondo me con questi dispositivi che veramente sono diventati alla portata di tutti e basta appendersi allo zaino e li si utilizza è veramente più sicuro andare a fare delle attività come le vie ferrate in solitaria un altro argomento come avete scritto che non è assolutamente vero è che l'imbraghi non tiene e non è fatto per gli strappi gli imbraghi sono tutti certificati da delle norme ISO e delle norme UIAA proprio perché sono dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria e pensate un po' l'anello di servizio di tutti gli imbraghi appunto è certificato di poter tenere fino a 15 kg newton che sono praticamente sui 1500 kg dunque gli imbraghi potete stare tranquilli che tengono soprattutto sull'anello di servizio se poi avete paura che l'imbrago non tenga perché è vecchio, usurato o comunque vi sembra che ha dei problemi buttatelo in questo caso davvero se un dispositivo di protezione individuale non vi dà sicurezza buttatelo via e cambiatelo una cosa poi che non dovete assolutamente fare che purtroppo mi avete scritto è quella di andare ad attaccare un moschettono al posto dell'anello di servizio questo non va mai assolutamente fatto per due motivi primo perché ce lo dice il costruttore il costruttore in sé ci dice subito non fatelo perché è pericoloso il motivo per il quale è pericoloso è che i moschettoni sono pensati per lavorare su due vie tendenzialmente parte alta, parte bassa quando noi li utilizziamo per far rampicata, alpinismo e via dicendo se noi lo andiamo ad attaccare ai ponti dell'imbrago e poi ci attacchiamo a un altro dispositivo come può essere la corda, un discesore e via dicendo porteremo il moschettono a lavorare su tre forze quindi in tre direzioni questo è un problema perché non è pensato per essere utilizzato in questo modo e dunque può andare a creare dei problemi il moschettono può tendere magari a deformarsi comunque ad avere un funzionamento non idoneo dunque dato che ce lo consiglia il produttore abbiamo capito il perché non va utilizzato questo veramente non fatelo più sempre legato al mondo dell'anello di servizio e anche in questo caso parlando un pochino più in ambito arrampicata, alpinismo una cosa che non è assolutamente vera che mi avete scritto è che sull'anello di servizio non ci si deve collegare assolutamente nulla perché va lasciato libero questo non è assolutamente vero anzi è esattamente il contrario ovvero che il 99% delle cose che si utilizzano sono da attaccare sull'anello di servizio quando si fa arrampicata, alpinismo tutto si attacca sull'anello di servizio l'unica cosa che non viene attaccata all'anello di servizio è appunto l'otto quando andiamo a fare alpinismo e arrampicata che si fa passare per i ponti dell'imbrago ma per il resto praticamente tutto viene fatto passare per l'anello di servizio infine ultima cosa questo più che un errore secondo me è un falso mito ovvero che molte volte si dice i moschettoni vanno attaccati uno dalla parte superiore e uno dalla parte inferiore questa è una cosa che oggigiorno non serve più aveva senso farlo con i vecchi moschettoni che si aprivano con lo scatto con quelli lì aveva ancora senso fare questa cosa perché in casi veramente rari poteva succedere che magari un moschettoni potesse un pochino aprirsi con i nuovi moschettoni che invece sono a doppia via quindi che dobbiamo prima chiuderli col palmo e poi aprirli la parte anteriore ecco che non c'è più bisogno di metterne uno sopra uno sotto uno in un modulo o nell'altro possiamo metterli tranquillamente come vogliamo e non c'è più appunto il rischio che si vadano ad aprire è stata un'evoluzione di questi kit ferrato soprattutto di questi nuovi moschettoni dunque se vi siete trovati bene o mai siete abituati così andate avanti a farlo cioè non ci sono controindicazioni se invece state iniziando sappiate che non c'è alcun bisogno di fare questa procedura e tu quali di questi errori commettevi quando andavi a fare le vie ferrate fammelo sapere qua sotto nei commenti è una speranza sensata e esauramente esastiva anche per questo video e vi ringrazio quello che ho guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao